Bene ragazzi, oggi facciamo una lezione di laboratorio, anche se a distanza, e l'esperienza di laboratorio che andiamo a studiare è quella del moto del carrello lungo il piano inclinato. Immaginate, questo l'ho fatto precedentemente, di essere in laboratorio, questo è il nostro laboratorio di fisica, abbiamo costruito questo semplicissimo dispositivo, un piano inclinato, che non è altro che una guida metallica, questa qui con le barre grigie e rosse, sostenuta da questa asta, è disposto un fermo, su questa guida abbiamo appoggiato un carrello, che è questo aggeggio qui azzurro, le ruote non le vedete perché sono coperte dai bordi del piano inclinato, e sul carrello è stato montato un porta pesetti per poi cambiare la massa, anche per dare più stabilità. Una ragazza che mi ha aiutato dall'esperimento, vedete qui, tiene fermo il carrello, mando in descrizione del video, poi il carrello viene lasciato andare, e adesso studiamo il moto del carrello lungo il piano inclinato. Torniamo al punto di partenza, ecco, abbiamo già visto che, questo è il nostro dispositivo, per non fare troppi spasticci, fatemi copiare l'immagine, ecco, vuoi lavorare su questo, ma la ingrandisco un po', per studiare efficacemente il moto del carrello, abbiamo già visto che ci sono in gioco diverse forze, c'è la forza peso, fatemi indicare in verde, quella qui, che è una forza verticale, poi c'è la reazione vincolare, R, perpendicolare al piano del carrello, mettiamo il piano inclinato, e la reazione vincolare bilancia la parte del peso parallela al piano, e rimane libera la parte del peso, che è in blu, lungo il piano inclinato, questo è il P parallelo, ok, e abbiamo visto che se, indichiamo con alfa, l'angolo di inclinazione del piano, allora, il P parallelo, vale il peso per il seno dell'angolo alfa, ok, quindi per il secondo principio della dinamica, la forza risultante, che vale la massa del carrello per la sua accelerazione, vale in questo caso, P parallelo, cioè, Mg per il seno di alfa, qui le due masse possiamo semplificarle, e vediamo che l'accelerazione con cui il carrello scivola sul piano inclinato, e l'accelerazione di gravità per il seno dell'angolo alfa, dove G vale 9,81 metri al secondo quadrato, ok, quindi, quello che faremo è, andremo a misurare la, l'accelerazione con cui il corpo scende, e verificheremo tra l'altro che l'accelerazione è costante, e quindi si tratterà di un moto, uniformemente, uniformemente accelerato, cioè, la legge oraria, per esempio, la posizione X, se X è lungo per l'inclinato, in funzione del tempo, è una una parabola, ok, abbiamo già visto al suo tempo che, la parabola aveva una forma, X con 0, più la velocità iniziale per il tempo, più un mezzo dell'accelerazione per T alla seconda, ok, e quindi il coefficiente di T quadro, è metà dell'accelerazione, e quindi andremo a misurare, oppure possiamo anche utilizzare, la velocità in funzione di T, e questa sarà una retta, quando abbiamo studiato a cinematica, abbiamo visto che, in caso il moto sia, accelerazione costante, la relazione che velocità tempo, sarà velocità iniziale, più l'accelerazione per il tempo, e anche qui, andremo a misurare il coefficiente di T, nella legge della velocità, e ricaveremo la nostra accelerazione, ok, chiaramente sarà un valore inferiore a G, in realtà inferiore anche a questo, per considerazioni che faremo, tra un attimo, quindi, torniamo nel nostro laboratorio, riesaminiamo, ancora il filmato, ok, facciamo ripartire, possiamo togliere anche il rumore, e per, vediamo se ce l'ho qui, sì, ok, per poter analizzare il filmato, e quindi, in base alla legge oraria, contenuta nei fotogrammi del filmato, misurare l'accelerazione, utilizziamo i software, che usiamo di solito, che è quello della videoanalisi, cioè il tracker, che l'ho già installato, lo faccio partire, qui mi sembra il 5.3, anche se adesso è già uscita la 6, vediamo se parte, sì, eccolo, ok, qui, vado ad aprire il filmato, che è qui il primo, ecco, vedete che, la massa è già fornita, nell'immagine del nostro filmato, in questo cartello, poi andiamo a misurare anche l'angolo, qui, andiamo a individuare quali fotogrammi ci interessano, vedete che, fin tanto che, la ragazza tiene il dito premuto sul carrello, questa parte di filmato non ci interessa molto, comincieremo ad analizzare dall'istante in cui il dito viene tolto, che mi sembra che sia, ecco, in un piano, il fotogramma, numero, ecco, il 32, e andremo fino al punto in cui il carrello, arriva alla base del piano inclinato, perché dopo anche non ha più senso, quindi al 32 e al 50, per selezionare i fotogrammi, vado su questa icona, quella quel filmato, quindi, impostazione di clip, o clip settings, clicco una volta, e dico, il fotogramma iniziale è il 32, e quello finale è il 50, clicco su ok, quindi, vedete che qui ci sono due freccenne nere, che mi indicano quale parte del filmato ci interessa, torniamo all'inizio, anche qui, l'istante in cui, il dito viene tolto, e il carrello viene liberato, qui, il secondo, la seconda icona, dopo quella del filmato, è quella della, del, che dà la scala dell'immagine, quindi, clicco sulla freccina a destra, di questa, di questa specie di, di nastro, metrico, si apre il nuovo, e cerco, nastro di calibrazione, ora, clicchiamo su due punti, noti, due punti particolari, delle nostre immagini, quindi, prendo, vedete qui, con il tasto maiuscola, il cursore diventa un quadratino, mi posiziono alla base del piano inclinato, clicco una volta, poi, sposto il mouse, mi posiziono alla fine del piano inclinato, ritengo, premuto maiuscolo, scrivo, clicco un'altra volta, e che mi si evidenzia, questo, segmento a doppia freccia, e il sistema mi dice, che secondo lui, la distanza è questa, ovviamente la cancello, scrivo sopra, clicco sopra una volta, tolgo, il dato scelto dal sistema, e infilo quello, inserisco quello che, che è il dato reale, che sono 40 centimetri, quindi 0,4 metri, in questo, poi invio, in questo modo, adesso il sistema, il compil software, sa che, questa distanza, corrisponde a 40 centimetri, quindi riscala, tutte le distanze, del nostro sistema, in metri, di 0,4 metri, 40 centimetri, questo, adesso il nastro, non ci interessa più, non mi serve, che lo visualizzi, riclicco sull'icona, e lui lo toglie, e infine, dobbiamo andare a mettere, un sistema di assi cartesiani, quindi clicco sull'icona, immediatamente successiva, vedete che sono tutta una, dietro l'altra, quindi non si può sbagliare, e mi pone, il sistema di assi cartesiani, in centro all'immagine, orientata con l'asse orizzontale, e quella verticale, ora a me, questa origine, non va bene, sposto l'origine, per esempio, nella posizione del carrello, del primo fotogramma, che ci interessa, e poi ruoto, l'asse delle X, tenendo presente, vedete che quando, sposto il mouse, sull'asse delle X, questo diventa una, una mannina, e cliccando, mi permette di ruotarla, in questo modo, però, il moto avverrebbe, nella direzione negativa, dell'asse delle X, quindi posso ruotarla, di 180 gradi, in modo tale, che, le X, abbiano un verso positivo, nel senso, di discesa, del carrello, per controllare, che l'allineamento, sia buono, vediamo per esempio, di spostarci, all'ultimo fotogramma, vedete che, adesso, l'asse delle X, non attraverso il centro, del carrello, lo alzo ancora un po', in questo modo, l'allineamento, è ottimale, in modo tale, che, era, come vedete qui, al centro, del foro centrale, alla partenza, e l'asse delle X, passa attraverso, quello stesso punto, anche all'arrivo, quindi, l'allineamento, è buono, detto questo, anche qui, tolgo, la visualizzazione, dei due assi, che non ci interessa più, ormai sono già, fissati, e infine, l'icona successiva, nuovo, mi dice, che cosa tracciare, quindi, clicco una volta, traccia, un punto di massa, quindi, un particolare punto, che è il nostro carrello, e, in questo modo, devo andare a dire al sistema, quale particolare dell'immagine, identificare nei vari fotogrammi, quindi, lui, le chiama massa A, gli dà un indicatore, che è questo, rombo rosso, clicco una volta su massa, qui ho tutte le caratteristiche, dell'indicatore, vado su auto traccia, in auto traccia, una volta che ho identificato, il particolare da tracciare, cioè il centro del nostro carrello, poi il software si incarica, di trovarlo in tutti i fotogrammi successivi, mi sposto, questa finestra a destra, vado sull'immagine, tengo premuto simultaneamente, il tasto control, e il tasto maiuscolo, e vedete che il mouse si trasforma, ma scusate, lo rifaccio, il mouse si trasforma, attenzione, ho cliccato per sbaglio, ecco, lo rifaccio un secondo, auto traccia, ripeto, lo sposto, tengo premuto, il tasto control, il tasto maiuscola, il mouse si trasforma in un mirino, lo punto al centro del carrello, nel foro centrale, clicco una volta, e mi appaiono, questo è un rettangolo tratteggiato, con un puntolino rosso a destra, e questa è l'area di ricerca, questa l'allargo un po', così gli dico che cercherà in questa zona, e poi dentro c'è un specie, un altro mirino più piccolo, tondo, con un altro quadratino rosso, anche questo lo allargo, per dirgli quale particolare cercare, quindi prendo il foro centrale, e parte dei due laterali, in modo tale che non abbia dubbi, su quale è la immagine da identificare, ecco, poi vedete dentro c'è una crocetta, e lì identificherà quella come posizione del nostro carrello, detto questo, vado sulla nostra finestra appena aperta, e clicco cerca, in questo modo, il software analizza ogni singolo fotogramma, e identificherà quel particolare, da un fotogramma all'altro, ne registra le coordinate, e poi mi mostra in tempo reale, la legge oraria, nel grafico che avete qui in alto, vedete che lui sta andando avanti, in questo modo, ottimizziamo un po' i tempi, vedete che già si presenta, comincia già a delinearsi una parabola, vedete che non sono allineate su una retta, perché la legge oraria si presenta come una curva, questo è già un buon risultato, ok, sempre arrivare all'ultimo fotogramma, qui c'è qualche difficoltà evidentemente a determinare la posizione, perché l'immagine che vedete è un po' sbiadita, perché ovviamente è molto veloce il carrello, ok, questo è l'ultimo fotogramma, chiudiamo qui, vado su chiudi, e adesso il software mi ha fornito una tabella di dati, dove c'è la posizione e le coordinate x e y, che ha misurato di volta in volta, e qui in alto abbiamo il grafico con la legge oraria della coordinata x, cioè la posizione lungo il piano inclinato, ricordate che la x l'abbiamo messa parallelamente al piano, in funzione del tempo, e quindi andiamo, torniamo a esaminare questo tipo di grafico, per farlo col pulsante destro del mouse, vado sul grafico e vado su analizza, ok, e in questo modo mi si appare, mi si ingrandisce, mi si zooma la finestra dei dati, qui ogni singolo puntolino è un fotogramma, dove è stato registrato la x, la y e il tempo, ogni puntolino viene congiunto al successivo, questo lo tolgo, perché in realtà non voglio che sia fatto questo, ma voglio affittare una curva che sia una curva teorica, e poi andiamo su analisi, fit delle curve, fit significa adattare, ecco qui il sistema mi propone diversi modelli, uno lineare, che ovviamente non va bene, e selezioniamo da questo, anziché lineare, parabolica, cioè una curva che è una parabola, vedete che questa va molto meglio, questa è la stessa parabola, che attraversa praticamente tutti i punti, che abbiamo, di cui disponiamo i dati, e qui il sistema mi propone questo tipo di legge, cioè, a per t alla seconda, più b per t più c, abbiamo già visto che c corrisponde alla posizione iniziale, b grande alla velocità iniziale, e a grande a un mezzo dell'accelerazione, quindi torniamo alla nostra lavagna, vi ricordate la legge oraria, che era questa, la legge oraria, per un modulo di formento accelerato, è posizione al tempo t, che è uguale, posizione iniziale, più velocità iniziale per il tempo, più un mezzo a t alla seconda, tracker, propone questa forma, x che vale, a per t alla seconda, più b t più c, quindi, il nostro a, il coefficiente di t grande, corrisponde a un mezzo dell'accelerazione, ok, poi c'è, il coefficiente di t, corrisponde alla velocità iniziale, e il termine noto c, corrisponde alla posizione di partenza, x zero, quindi qui andiamo a vedere, sul, sul, quello che ci dice l'analisi del grafico, vediamo, dove ce l'abbiamo, ecco, eccolo qua dietro, e dice, guarda che a vale, in questo caso, 0, quindi, dalla legge oraria, da x, di t, abbiamo che, il coefficiente a vale, lui lo stima come, 7,8846, per 10 alla meno 1, in questo caso, metri al secondo quadrato, essendo un'accelerazione, quindi, possiamo scrivere più semplicemente, come 0,7,846, e questo vale, un mezzo di a, quindi, l'accelerazione a, stimata in questo modo, è il doppio del coefficiente a grande, quindi, vediamo, se trovi, la calcolatrice, 2 per, 0,7846, e, 1,5692, metri al secondo quadrato, per sicurezza, andiamo a fare lo stesso calcolo, analizzando, non la posizione, ma la velocità, per far questo, è sufficiente, cliccato, nella finestra principale, clicchiamo sulla X, e anziché selezionare la X, andiamo a selezionare VX, quindi la componente, della velocità, lungo l'asse delle X, vedete che il grafico cambia, di nuovo, pulsante destro, analizza, qui tolgo queste due spunte, ecco, qui, la legge della velocità, è fitata con una parabola, invece a noi interessa una retta, quindi, scelgo il lineare, ecco, e il, tra che mi dice, ok, il mio modello, è VX, uguale ad A, grande, per T, più B, qui, in questo caso, il coefficiente di A, è l'accelerazione, e lo chiama A, maiuscolo lo stesso, ma, in questo caso, è l'interaccelerazione, qui vedete che, vale, 1,5670, metà al secondo quadrato, quindi, nella nostra lavagna, scriveremo che, dall'analisi B, verso T, che è uguale, V0, più A per T, mentre, tracker, vi propone, la legge, V uguale a, A per T, più B, e nel nostro caso, quindi, l'accelerazione, a grande, oppure, a piccolo, vale, secondo quanto abbiamo misurato, 1,567, metri, al secondo quadrato, vedete che vi, mostro la lavagna, ecco, qui abbiamo, anche in questo caso, che, A grande, corrisponde, al coefficiente di T, mentre, B, è la velocità iniziale, di zero, e qui cambiano, il tipo di relazione, questa lineare, se confrontiamo le due, la stima, dell'accelerazione, usando la legge oraria, che è questa, e la stima dell'accelerazione, usando, la, 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 la legge della velocità, vedete che, c'è stabilità, fino alla terza cifra, qui è 9, qui è 7, quindi teniamo buona, la seconda cifra decimale, e quindi arrotondiamo, fermandoci alla seconda, quindi l'accelerazione, del nostro carrello, vale 1,5, butto via la terza, decimale, quindi, butto via un 7, un 9, quindi arrotondo, a 7, metri al secondo quadrato, perché tolgo, un numero più grande, di 5, di questa, è l'accelerazione con cui, il nostro carrello, scende, dal piano infilato, che ovviamente, è, più piccola, di quella, di 9,81, metri al secondo quadrato, che sarebbe quella, che avrebbe se scendesse, verticalmente, però c'è ancora un dato, importante da misurare, e vediamo, se ci riusciamo, ok, qui abbiamo chiuso, mi pare l'altro, eccolo qua, questo qui diamo il grafico, torniamo, nel pannello principale, e andiamo a vedere, se riusciamo a misurare, l'angolo, che il piano infilato, forma con l'asse, col piano, del tavolo, per far questo, andiamo sempre, su nuovo, questa volta, avremo strumento di misura, goniometro, ecco, mi appare, un goniometro, in verde, vediamo, di cambiare il colore, per esempio, il colore che si distingua bene, potrebbe essere, che ne so, il giallo, ma lo ricambiamo, ecco, qui si vede abbastanza bene, mettiamo, il vertice dell'angolo, alla base del piano, qua sotto, il segmento orizzontale, possibilmente allineato, ecco, con l'ombra, così potrebbe andare bene, e quello verticale, lungo il piano stesso, o meno così, vediamo che, tra che ci dice, questo angolo, misura 15,6 gradi, quindi, riportiamo il valore, dell'angolo, alfa, 15,6 gradi, ok, quindi, il, il nostro dato misurato, che è 1,57 metri al secondo quadrato, lo confrontiamo con, g, per, il seno di alfa, cioè, 9,81 metri al secondo quadrato, per, il seno di, 15,6 gradi, e, questo, dovrebbe darci, calcolatrice alla mano, 9,81 per il seno di, 15,6, circa, 2, 2,64, metri al secondo quadrato, ovviamente, questa accelerazione, l'accelerazione che abbiamo misurato, che è 1,57, è più piccola, di g, per il seno di alfa, e questo, come lo interpretiamo, beh, in questo caso, abbiamo già visto, a lezione, che, avremmo, questa, espressione, l'accelerazione, cioè, l'accelerazione, varrebbe, 9,81, metri al secondo quadrato, per il seno di alfa, senza, triti, è ragionevole, aspettarsi, una grandezza, un valore dell'accelerazione, più piccolo, come in questo caso, qui abbiamo, ripeto, 1,57, perché, perché in questo caso, l'attrito è rilevante, ci sono attriti, sia all'interno, del carrello, tra le ruote del carrello, e il piano inclinato, e anche un pochino, di attrito con l'aria, quindi, la differenza, tra le due accelerazioni, è ragionevolmente, legata, al fatto che, il nostro carrello, mentre si va, sul piano inclinato, è ben lungi, da non incontrare attriti, ok, quello che possiamo fare, è vedere, per esempio, se, aumentando l'angolo, con un angolo più grande, l'accelerazione, cresce di conseguenza, vediamo se, dovremmo avere un po' di tempo ancora, quindi questo, chiudiamo questo, una volta che ho scritto, che ho salvato, che ho lavorato con Tracker, posso sempre salvare, il file su cui lavoro, lo salva in formato, TRK, e qui me lo mette nella cartella, dove ho già, ho salvato il filmato, dice che esiste uno, perché l'avevo già provato prima, lo sovrappongo, chiudo, questo filmato, questa stazione di lavoro, ne apriamo un'altra, per esempio, ok, e analizziamo un altro filmato, dove, per esempio, l'angolo è più grande, eccolo qui, sempre in massa 1, ma l'angolo 2, vediamo se parte, ok, in questo caso, abbiamo insinuato questo qui, quindi, la massa è sempre la stessa, c'era 128, circa, grammi, ma, la pendenza del piano inclinato, è più grande, abbiamo alzato, il fermo, il piano inclinato, ha un'inclinazione maggiore, e andiamo a ripetere i nostri passi, quindi, ripetiamo, la selezione dei fotogrammi, qui, ecco, quindi, è piuttosto tardi, andiamo un po' indietro, quindi, il filmato da qui partire, è il 31, fino a, quindi, i fotogrammi buoni ce ne saranno di meno, qui è molto sgranata, chissà se riuscirà a dimificare quella, fino al 45, quindi, dal 31, al 45, ok, quindi, stabiliamo la scala, nuovo, nastro di calibrazione, quindi, shift, puntiamo a questo punto, poi ancora shift, a questo, e qui sono sempre, 40 cm, quindi 0,4 metri, questo lo togliamo, rifissiamo il sistema di assi cartesiani, posizionato, al centro del carrello, alla partenza, poi ruotiamo questo, per avere il verso positivo, a scendere un due piano inchinato, controlliamo l'allineamento, anche qui doveva essere abbastanza buono, ok, togliamo anche questo, andiamo a tracciare adesso il nostro carrello, anche in questo caso, nuovo punto di massa, anche qui andiamo con un'autotraccia, contro il maiuscola, punto il mirino al centro del carrello, clicco una volta, allargiamo l'area di ricerca, con un'attenzione, scusate, guardiamo l'area di ricerca, allargiamo anche qui, il particolare da tracciare, dovrebbe bastare, mi auguro, ok, andiamo su cerca, dobbiamo trovare sempre una parabola, che sta a indicare che il moto è uniformemente accelerato, è un po' lento, perché il sistema deve fare molte cose simultaneamente, quindi ci vorrà un po' più di tempo di elaborazione, ma è partita, qui in questo caso ci limiteremo a misurare l'accelerazione, dando per scontato che, adesso possiamo vedere anche l'angolo, che l'angolo è maggiore, qui nel grafico qui in fuori già una bella parabola, e potremmo già fermarci qui, perché poi, maggiore diventa di qualità, un po' troppo bassa, perché si è identificata in modo, efficace, ma insomma diamogli fiducia, qui mancano ancora un paio di fotogrammi, ok, direi che può bastare, chiudiamo, e andiamo ad analizzare il grafico, copronto a destra, analizza, togliamo la spunta, confrontiamo, analisi, sfide delle curve, modello linea, eccola qua, questa volta A è 1,34, questa è la metà di A, quindi nel secondo caso, sarà 2,6 circa, quindi più grande di prima, andiamo a confrontare anche, la velocità, quindi andiamo su VX, qui, la qualità del grafico è un po' peggiore, il primo è più fluttuante, ecco, 2,69, insomma, 2,7, quindi l'accelerazione è aumentata, e rapidissimamente, se ce la facciamo, andiamo a misurare l'angolo, coloriamolo di giallo, così lo vediamo meglio, ecco, lo piazziamo qui, in questo punto, il vertice dell'angolo, se lo mettiamo orizzontale, e questo è lungo il piano inclinato, qui vediamo 25 gradi circa, quindi con 25,6 gradi, l'accelerazione è di 2,69, andiamo a riportarlo sulla nostra lavagna, quindi nel filmato 2, con un angolo di 25,6 gradi, l'accelerazione chiamiamola a2, questo va a2, era di, cos'era, non ricordo più, mi sembra 2,7, andiamo a rianalizzare, 2,69, 2,69 metri al secondo quadrato, quindi, coerentemente con quanto è discusso, all'aumentare dell'angolo, l'accelerazione aumenta, comunque più piccola di G senalfa, a causa degli attriti, quindi in questo caso abbiamo verificato che, questo tipo di moto, è un moto, sì, uniformemente accelerato, però, l'accelerazione risente del fatto che ci sono attriti significativi, cioè non trascurabili, tra il carrello e il piano inclinato, e probabilmente anche tra il carrello e l'aria, l'aria fa un po' da freno, ok, se non ci sono domande, direi che possiamo fermare, anche in questo caso possiamo salvare il lavoro svolto, ok, se lo prendiamo quello di prima, sì, e ci fermiamo qui, quindi le conclusioni sono, abbiamo verificato che, il moto del carrello lungo il piano inclinato, è un moto uniformemente accelerato, e che l'accelerazione quindi è costante, e che il suo valore, il valore esatto dell'accelerazione, è risente della presenza degli attriti, ok, 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 Grazie a tutti.